Perugia Perugia Sono molto contento del lavoro che sto svolgendo con Tedino Ci sarà tempo per fare una valutazione più profonda Ma non toccherà comunque a me Sarà una valutazione generale per capire cosa avremo fatto in questa stagione Ma ci tengo a dire che sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo facendo con lui Ai tifosi voglio dire di venire numerosi a sostenerci nelle prossime partite Il loro sostegno è fondamentale per noi dal primo all'ultimo minuto E spero che sarà così tutta la stagione In ogni mezzo dal primo all'ultimo minuto E spero che sarà così per il sezono